Ti controlla il telefono. E' violenza. Controlla i tuoi spostamenti. E' violenza. Cerca di isolarti da tutti. E' violenza. Ti minaccia, ti offende. E' violenza. Ti senti in pericolo. Se hai risposto sì a una di queste domande, rivolgiti allo sportello di ascolto all'ipercopio di Via Livorno a Torino. Ti accoglierà Emma Ollus e potrai esprimerti liberamente, senza timore né giudizi. Il servizio è gratuito e garantisce il rispetto della tua privacy.